Musica Continuiamo il nostro Just Today, come vi ho detto all'inizio, adesso è il momento di parlare di un tempo liturgico che è a poche ore avanti a noi, il tempo liturgico dell'Avvento e insieme a Don Giovanni Frisena che vedo collegato tramite Skype, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia Bovino, vogliamo approfondire queste belle tematiche legate a questo bel tempo liturgico così pieno di significato e di caratteristiche. Buongiorno e bentrovato Don Giovanni. Buongiorno a te Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora io sento una musica in sottofondo, chiedo alla regia non so cosa stia succedendo, però comunque possiamo proseguire con la nostra intervista. Allora Don Giovanni, domani pomeriggio, primi vespri della prima domenica di Abvento, comincia un nuovo anno liturgico, un nuovo itinerario che la Chiesa ci offre come anche educazione. Ecco allora, il tempo dell'Avvento è un tempo di attesa ma è anche un tempo di profonda riflessione su quelle che sono le realtà future. Ti chiederei di iniziare a delinearci quali sono le caratteristiche di questo tempo così importante. Sì, le caratteristiche le cogliamo essenzialmente da quello che è il termine stesso, Advento, Adventus, che poi è traduzione di una parola che noi conosciamo molto bene all'interno, ecco anche perché la si utilizza anche nella Catechesi, è pure un termine greco, Parousia, che indica proprio la venuta. Una venuta che, come possiamo subito pensare, è una venuta duplice, è una venuta nella carne, perché sappiamo che Gesù è già venuto duemila anni fa e proprio a questo ci prepariamo anche per mezzo di questo tempo liturgico, la celebrazione del Natale, l'incarnazione di Gesù. Dunque un già che si è compiuto nella storia e questo richiede per noi una certa preparazione, ma è anche una venuta di Gesù che noi attendiamo alla fine dei tempi. Ecco, ogni qua volta celebriamo l'eocarestia, proprio dopo che il sacerdote dice mistero della fede, noi rispondiamo che siamo tutti quanti pronti in attesa della sua venuta, del ritorno. Allora il tempo di avvento è anche il tempo del non ancora, il tempo di quell'attesa, carica di speranza, di quel vegliare. Ed ecco allora che è facilmente intuibile come il tempo di avvento sia stato diviso dalla sapienza della Chiesa in due parti. Una prima parte proprio dedicata a questo ritorno di Gesù alla fine dei tempi, una riflessione proprio delle realtà ultime, come dicevi tu e ce ne accorgiamo molto semplicemente anche dai Vangeli domenicali. Ecco, ci aspetteremmo la prima, la seconda domenica di avvento di ascoltare Vangeli che parlino di Maria, di Giuseppe, di questa preparazione della nascita di Gesù. Invece ci troviamo di fronte a tematiche come la vigilanza nell'attesa della venuta di Gesù. Ecco l'invito di Giovanni Battista, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. E soltanto alla fine, nella quarta domenica di avvento, ci troviamo di fronte al racconto di come Gesù nasce. Quest'anno, nel ciclo dell'anno A, ci troviamo di fronte al bellissimo racconto del sogno di Giuseppe, così come ce lo descrive l'Evangelista Matteo. Allora, il tempo di avvento è un tempo di attesa vigilante e gioiosa, perché la promessa di Dio si realizza e si realizza in Gesù. E questa gioia è percepibile proprio perché la sapienza della Chiesa la inserisce nel cuore dell'avvento. La terza domenica di avvento è proprio la domenica gaudete. E la liturgia lo esprime in maniera molto forte. Si lasciano i paramenti viola per lasciare spazio al rosaceo, che indica quasi questo sole che inizia a sorgere, così come cantiamo nel Benedictus, perché sta avverandosi quella profezia, quel Gesù viene incontro a noi. Allora siamo invitati a rallegrarci. Infatti questa domenica prende proprio il nome dall'antifona d'ingresso che introduce la liturgia di questo giorno. Dunque una gioia che non è semplicemente una gioia fasulla, ma una gioia dettata da una certezza. La certezza che Gesù è presente, già venuto nella carne, ma che Gesù ritornerà e ritorna quotidianamente nella nostra vita. Allora il tempo di avvento lo dobbiamo sempre vivere tra queste due prospettive, prepararci al Natale e prepararci all'incontro definitivo con Gesù. Senti Don Giovanni, tu hai utilizzato una parola che magari i nostri amici telespettatori hanno un po' ascoltato con una faccia. Ma cosa sta dicendo? La parusia. E' uno dei termini che indica poi quello che caratterizza la prima parte del tempo di avvento, che è bipartito come hai detto tu. La prima parte è dedicata a ciò che accadrà alla fine dei tempi e la seconda invece una parte un po' più tra virgolette storica che ci conduce direttamente al Natale. Ecco la domanda che io vorrei farti è, tante volte noi ragioniamo partendo dall'oggi per proiettarci al futuro o comunque commemorando il passato. Il tempo di avvento invece ci porta ad una riflessione un po' più raffinata perché noi partiremo con la prima domenica, come giustamente hai sottolineato tu, con il futuro, ecco su ciò che accadrà. Ecco, perché è importante partire dalla fine dei tempi per giungere poi alla rievocazione della nascita di Gesù con la seconda parte del tempo di avvento? Sì, questa è una domanda che penso sorga spontanea dopo che si comprende questa bipartizione del tempo di avvento. Perché può sembrare stano iniziare il nuovo anno liturgico partendo dalla fine dei tempi, parlando della fine dei tempi. Allora credo che siano essenzialmente due le motivazioni che suscitano anche la nostra riflessione. La prima, quella un po' più spirituale, perché ci porta a pensare che per avviarci in un viaggio abbiamo bisogno di conoscere la nostra meta. Perché se in un viaggio non sappiamo dove siamo diretti, ecco che non possiamo preparare nulla, non possiamo preparare quello che ci dobbiamo portare dietro, non possiamo nemmeno capire qual è la strada da percorrere, la strada più breve e più semplice. Allora la nostra vita è una vera e propria vocazione, una chiamata al paradiso. Il tempo di avvento ce lo vuole ricordare. Noi siamo nati per unirci totalmente al Signore. Allora il tempo di avvento, all'inizio dell'anno liturgico e ogni anno, sembra quasi riorientarci, indicarci la direzione da prendere perché la nostra vita cristiana porti davvero frutto. Perché capiamo che pensare alla vita eterna non è qualcosa di astratto, ma poi si traduce nella concretezza di tutti i giorni, nelle nostre scelte, nelle nostre parole, nelle nostre decisioni. E poi anche perché, ecco una motivazione potremmo dire un po' più teologico, utilizziamo questo termine un po' più difficile, perché la prima venuta di Gesù, la nascita di Gesù, in realtà è ordinata proprio la seconda. Il nostro incontro con lui, Gesù, nasce per salvarci, per portarci con lui, altrimenti sarebbe stato inutile, ecco, la sua venuta sulla terra. Allora bisogna sempre tenere presente questa duplice realtà, senza dimenticare che in realtà tra questa prima venuta, quella del Natale, e l'ultima, quello dell'incontro con lui, in realtà ci sono tante altre venute intermedie, cioè tanti nostri incontri personali con il Signore. Allora il tempo di avvento sembra volerci ricordare anche questo. Abbiamo bisogno di accorgerci della presenza di Gesù nella nostra vita, perché Gesù è colui che viene sempre a visitarci, costantemente. Don Giovanni, il tempo di avvento a me piace particolarmente, perché comunque offre dei personaggi, ecco, delle vite concrete, sulle quali poter misurare poi ciascuno, ecco, la propria fedeltà, il proprio cammino. Uno su tutti è la Vergine Maria, che con la solennità dell'Immacolata, ecco, è particolarmente venerata nel tempo di avvento. Noi però abbiamo giusto due minuti, e io vorrei fare una riflessione, una riflessione, chiedo scusa, legata ai simboli, ecco, il tempo di Natale, il tempo di avvento, magari già qualcuno ha cominciato a fare l'albero di Natale, il presepe, Papa Francesco, ecco, ha scritto una lettera bellissima dedicata a questo tema, parlando proprio dei simboli del Natale. Io ti faccio una domanda, non so se è difficile, ecco, ma secondo te ha senso ancora fare il presepe al giorno d'oggi? Ma credo che ha molto senso fare proprio il presepe, specialmente in un periodo nel quale, ecco, è semplice vederlo, basta che si entra nei negozi, sta prendendo, ecco, forma anche un'altra tradizione, quella più che altro di non tanto fare il presepe, quella di fare i villaggi di Babbo Natale. Certo. E Papa Francesco, invece, nella sua lettera, ci ricorda che abbiamo bisogno di riappropriarci di questa festa, di riappropriarci specialmente di un elemento essenziale, perché sembrerà strano, ma il presepe ci aiuta a trasmettere la fede, un fatto familiare, ci aiuta a vedere proprio la bellezza di una famiglia unita, dei nonni che insegnano ai nipoti. E nel semplice fare questo presepe, in maniera anche molto semplice, abbiamo la possibilità di sentire, di toccare, che il figlio di Dio è davvero venuto nella nostra carne. Noi potremmo dire che forse è una delle più belle lezioni di catechismo che è possibile impartire proprio a casa. E d'altronde, forse proprio per questo, il presepe è stata una cosa che, diciamo, da quanto San Francesco l'ha ideato, ha accompagnato sempre la vita della Chiesa. Non è mai venuto meno, perché credo che è una bellissima forma di evangelizzazione, perché nella sua semplicità permette di sperimentare, di toccare un Vangelo vivo, e di toccare questo bambino Gesù che si fa carne nello stupore e nella meraviglia. Allora, perché non cogliere questa occasione e riprendere, ecco, questo preparare insieme a casa il presepe? Tante volte noi compriamo quelli già fatti perché è tutto più semplice, però credo che farlo insieme sia un momento importante che aiuti anche più piccoli a vivere in maniera più forte il Natale che si avvicina. Anche perché poi è bello che i bambini prendano queste statuine e le sparpallino per casa, insomma. Posso dirti che ho un'esperienza in tal senso. Don Giovanni, allora, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi, per averci delineato, anche se solo brevemente, i tratti un po' salienti di questo tempo liturgico molto bello che da domani sera, sabato, appunto, nei primi vespri della prima domenica ci accingiamo a celebrare. Buon avvento, ma non ti dico buon Natale perché manca un mese, ma sicuramente ci risentiremo per approfondire ancora di più questo bel tempo liturgico. Grazie per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti.